Buongiorno e buon inizio di giugno a tutti i nostri telespettatori, anche oggi mercoledì primo giugno iniziamo quindi subito l'appuntamento con la rassegna stampa leggendo i principali titoli del quotidiano online tutto molise. Final Cut, l'operazione antidroga condotta dalla squadra mobile del capoluogo Pentro 2 Rom confinati ai domiciliari. Regione, il progetto mi fido di te per le PMI. Intanto i consiglieri regionali di centro-destra chiedono chiarimenti all'ufficio per l'impiego di Campobasso in merito al programma Garanzia Giovani. European Job Day Svezia alla Fondazione Giovanni Paolo II, la serie di seminari volti ad illustrare le opportunità lavorative e sanitarie nelle varie zone d'Europa. Il nostro appuntamento prosegue con i principali titoli del quotidiano del Molise. Mi fido di te, ossigeno, alle imprese per professionisti e PMI prestiti a tasso agevolato da 5 fino a 25 mila euro. Frattura tramite FIM Molise, risorse per quasi 9 milioni, portiamo concretamente con le misure di sostegno e rilancio. Boccata ad ossigeno per imprenditori singoli e piccole e medie imprese che potranno attingere ai fondi. E poi ci spostiamo a Larino. Polo fieristico, c'è il via libera della giunta all'impianti, una struttura da 1500 metri quadri e poi termoli, bulli in rete. A scuola si impara a difendersi. Ancora Roberto Ruta annuncia il decreto tracciabilità ed etichetta per latte e derivati. in arrivo più tutele per consumatori e produttori. Spostandoci nel taglio alto della stessa pagina Isernia, la mobile stronca gli affari dei padroni dello spaccio. Troviamo quindi la cronaca, arrestati due rom e decine di persone indagate. E poi operazione accoglienza, il Molise ospita altri 100 migranti. Mentre nel taglio basso troviamo l'infiorata colora la città che si inchina alla Madonna. Si parla ovviamente di Campobasso e poi troviamo lo sport serie D. Campobasso Alessandro, il più utilizzato nell'ultima stagione. L'attaccante ha giocato 2692 minuti e poi torneo delle regioni, giovanissimi. Arriva uno storico passaggio ai quarti, allievi eliminati per differenza reti. Andiamo avanti con le principali notizie di Primo Piano Molise. Mi fido di te, dalla Regione, risorse per artigiani, commercianti e PMI. La nuova edizione prevede quasi 9 milioni per prestiti da 5 a 25 mila euro. La misura allargata anche ai professionisti. Per accedere non bisogna avere in corso protesti. Frattura dopo tre anni di sacrifici, il Molise è ripartito. Mi auguro sorprese, chiedo scusa, il 14 giugno per la filiera avicola. E nel taglio alto le elezioni a Isernia, tedeschi, affonda Formichelli e compagni, non votate, che ha distrutto la città. E poi la delibera incriminata, più soldi nella busta paga del DG della Salute, scoppia il caso. 11 medici trasferiti al Santimotio, chiusi, chirurgia e pronto soccorso. Da oggi il Vietri è ospedale di comunità. Mentre spostandoci nel taglio basso, operazione antidroga, la polizia stronca, traffico di stupefacenti ai domiciliari 2 Rom. E poi Abruzzo, Vasto, Vertenza Canale in 39 accettano il bonus di 10 mila euro per l'esodo volontario e i sindacati accusano. È un ricatto. E poi troviamo lo sport. Olimpia di Meo avverte l'agnonese. Non lotto più per una semplice salvezza in D. Proseguiamo con la Gazzetta del Molise. Che oggi apre con incontro mano. Autostrada no. Nomine sì. C'è un motivo per tenere in piedi un carrozzone pleonastico. E oggi, nel taglio alto, l'Oscar del giorno viene attribuito al presidente dell'Acem Corrado di Niro, mentre il tapero del giorno oggi va al consigliere comunale Salvatore Nicola Giovanni. E spostando la nostra attenzione sulle pagine interne, a pagina 2 si parla di autostrada del Molise S.P.A. a D. Quid. E mentre nel taglio basso poste si avvicinano i tagli per il Molise. La Will denuncia l'approssimarsi del 13 giugno, data in cui scatteranno le riduzioni. Continuiamo con pagina 3. Si parla anche qui di Mi Fido di Te, un aiuto concreto per le piccole e medie imprese. Il presidente della Giunta regionale, Paolo Frattura, con l'assessore Carlo Veneziale, ha presentato l'azione di sostegno per 9 milioni di euro. E poi si parla di fondi UE ai professionisti. Nuove strategie per fronteggiare la crisi. La Conf Professione ritiene importante la fase delle risorse del POR. E spostandoci ancora più basso, al direttore generale 50 mila euro in più ai malati si tolgono servizi e prestazioni. E andiamo avanti con l'Agenzia Stampa Molise Online. I Sernia, tre arresti per spaccio di droga. Altri complici sono indagati. L'Areno, il 2 giugno, è il quarantennale della biblioteca comunale Bartolomeo Preziosi. E poi I Sernia, Cosmo Tedeschi, attacca Capofitto Formichelli, leva Fratture Gnagni e solo senza di loro il Molise e I Sernia torneranno a respirare. E poi Campobasso, anche il mercato di campagna amica col diretti nel villaggio della solidarietà a Campobasso. I Sernia, ritrovato vivo dai carabinieri un novantenne scomparso il 30 maggio. E poi Campobasso, anche il sindaco Antonio Battista, partecipato all'evento Project and Activities Exhibition dell'Istituto Marconi. E poi Cassino, il cordoglio del sindaco Pietrarcone per la scomparsa del piccolo Matteo Melaragni. Il nostro appuntamento prosegue con le principali testate nazionali, iniziando dal Quotidiano La Repubblica, che oggi apre con migranti a cogliere tutti la CEI contro il Viminale. Parla Galantino, no, agli hotspot in mare, Bruxelles chiarire sul piano. E poi, spostandoci nel taglio basso, Trump non voleva incontrare Salvini. E poi, lateralmente, visco l'Unione Europea troppo rigida sulle banche. Andiamo avanti con il Fatto Quotidiano. Consulta il giudice tifoso del Sì, indagato per concorsi truccati. Si parla di referendum, chiusa l'indagine su Augusto Barbera, ultra della riforma Boschi e poi l'inchiesta dopo l'omicidio di Roma, tutte le altre Sara uccise da silenzio e indifferenza. Si parla ovviamente del fatto di cronaca avvenuto a Roma della ragazza bruciata viva. E nel taglio alto, troviamo così, lo scafista ci ha chiesto i soldi, poi ci ha buttati in mare i superstiti dell'ultimo naufragio e il potere di vita e di morte dei trafficanti. Incredibile. Andiamo avanti con il Quotidiano Libero. In dieci anni, 25 mila morti. Si parla di vittime, di chi predica l'accoglienza. Abbiamo calcolato quanti immigrati sono deceduti in mare. Bisogna scoraggiare le partenze. Un modo c'è. Pure il Dalai Lama oggi, ora prega. Basta, arrivi, l'Europa è piena, ma Bruxelles ci lascia soli. Anzi, ci rimprovera. Sbarcano anche in Inghilterra e cresce il numero degli anti-UE. a pochi giorni dal referendum. E poi, la RAI conferma l'Aisoardi, la morsa di Salvini è salva. E poi, nel taglio basso, troviamo imparate dai cinquantenni a trovare lavoro. Cosa hanno in più dei giovani e perché le aziende li assumono? La nostra attenzione si sposta sulla Gazzetta del Mezzogiorno, che oggi apre con Renzi. Torna, rottamatore. Troppi politici in Italia, se vinco il referendum, resto fino al 2023. E visco, Banca d'Italia, occorrono più investimenti e meno tasse. Test elettorale, allarme della Commissione antimafia alle comunali del 5 giugno. Sono 14 i candidati impresentabili. E poi, lateralmente, troviamo altro decreto per l'ILVA. Si allontana la cessione e Gozzi attacca. Tragico errore, espropriare il RIVA e mettere i commissari. Industria, un comitato di esperti, dovrà valutare le offerte. Nel taglio alto, troviamo Bari. Fondi al governo, nuova vita per i quartieri. Da destinare a Libertà, Stanic e San Paolo. E poi, anche i privati, in campo per prendersi le sud-est. Proposta da arriva a ferro tramviare a Cotrap. Trasporti, già Trenitalia, si era dichiarata disponibile a rilevare le ferrovie sull'orlo del Crac. Nel taglio basso, invece, troviamo mozzarella, burro e formaggi. Arrivano l'etichetta di origine. Decreto a tutela, finalmente, del latte italiano. E poi, pronto soccorso, in Puglia arriva la chiusura estiva. Sanità per ora a Taranto e nella BAT mancano i medici. Andiamo avanti con avvenire. Milioni di schiavi che non vediamo. Lavoro forzato e prostituzione. 130 mila in Italia. Il rapporto della federazione australiana Walk Free quantifica in 46 milioni. Gli sfruttati, scoperti tre pastori reclusi in un ovile in Sardegna. E poi, lo sfruttamento che sta soffocando il mare del Cile. Nigno e Mangimi fanno proliferare le alghe. E ancora, investimenti e tagli fiscali per spingere la ripresina. Banca Italia, Visco difende la vigilanza e chiede la riduzione dei costi sindacati in rivolta. Il nostro appuntamento prosegue con lo sport, spostando l'attenzione sul Corriere dello Sport. Che oggi apre con l'Inter ai cinesi. Moratti lasciare. Mi viene da piangere. Il gruppo Sunning è vicino a rilevare il club. L'ex patron può cedere la sua quota. Mancini non so se rimarrà a fare da 650 milioni. A tohir la minoranza. E poi nel taglio alto, Conte, ecco l'Italia. Sarà da battaglia. Il tecnico vuole una nazionale capace di lottare. Sturaro al posto di Giorginio. E poi nel taglio basso troviamo la Juve che pensa a Mkhitaryan. Spero di averlo letto bene. Il talento di Raiola non rinnova con il Borussia Blitz pronto. E si conclude il nostro appuntamento leggendo i principali titoli della Gazzetta dello Sport. Che apre con la Cina. Si prende l'Inter. A giorni la firma. Sunning prenderà il 70% del club. Entro fine mese l'obiettivo è del 100%. Tohir per ora resta presidente. Moratti cederà le quote. Per il fair play finanziario cambia poco. Mancini spiazzato e deluso. E poi lateralmente si trova una immagine di Berlusconi con la maglia del Milan. C'è il sì di Silvio. Il Milan finisce sul piatto. Mentre nel taglio basso motta col 10. Nell'Italia multi ruolo. L'orriundo play titolare. Giorginio a casa. C'è Sturaro in una nazionale mai così d'utile. E il nostro appuntamento finisce qui. Grazie come sempre per averci seguito. Vi lascio al meteo augurandovi una buona giornata. Arrivederci. Il meteo è offerto da Signora, dico a lei. A conseglie assegni, spendi e risparmi di Molise TV. Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV. E la famiglia torna a sorridere. Previsioni del tempo per mercoledì 1 giugno. Il fronte nuvoloso giunto e nottata si muove velocemente verso i Balcani, rinnovando spiccata variabilità nella prima parte del giorno con possibilità di qualche pioggia. Migliora però nel corso della giornata con schiarite via via sempre più ampie a partire da ovest. Venti moderati sud-occidentali in rotazione a ovest, basso adriatico da mosso a poco mosso. Temperature in generale calo, ma vediamole nel dettaglio. Campobasso minima 11, massima 15 gradi. Isernia minima 12, massima 18 gradi. Termoli, temperature comprese tra 18 e 22 gradi. Il meteo è stato offerto da Signora, dico a lei. A consegni, assegni, spendi e risparmi di Molise TV. Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere.